Amici del Vigo in Famiglia, benvenuti! Sono le 14.30 esatte, quindi io do specialmente il via agli sms. Chi ci segue sa di che cosa parlo. Parlo del numero di sms al quale dovete mandare due numeri dall'1 al 90. Il numero è questo, 320 20 41 654. Questi due numeri serviranno ai più fortunati che vedranno questi stessi numeri uscire in un'estrazione del venerdì che chiameremo l'estrazione del Chiamalambo, entro le prime 30 chiamate, vinceranno 500 euro. Mi sa che l'ho spiegato malissimo, però vi assicuro che dopo la sigla ve lo spiego meglio. Il succo c'è, 500 euro a settimana. A tra poco, Vigo in Famiglia! Vi saluto tutti gli amici che sono già in chat, visto Gengitiva, c'è anche Meglio Mare, certo, sempre meglio il mare. Siamo anche alla chiamata 49, quindi vado subito a seguire questa estrazione in corso con Federica. Ciao amici, buon pomeriggio a tutti, ciao Serena in questo 12-12-2012. Dicevi prima di giocare i vostri numeri e perché no, magari questa data così particolare potrebbe portare fortuna a qualcuno. Siamo alla chiamata 54, esce in questo momento il bingo, per cui complementi si riparte tra 1 minuto e 36. Nel frattempo, Serena, io ricordo come si può giocare con noi ed entrare nel mondo di lottomatica.it. È semplicissimo, basta appunto collegarsi al sito lottomatica.it e compilare il modulo di registrazione. Dovete scegliere un nickname e una password e già al momento della prima registrazione potete avere un bonus di benvenuto che vi verrà accreditato sul vostro conto gioco. Dopodiché andate sulla vostra casella di posta elettronica, dove vi sarà arrivata una mail e definite gli ultimi piccolissimi dettagli della registrazione e poi potete giocare con noi. Grazie Fede. Meno 5 numeri, quindi direi decisamente lontana dal video. Bene, anche tu sei con me. Però arriva il bingo, arriva il bingo in questo momento alla chiamata 68 con il numero 71. Adesso arriverà anche da me perché ho un po' di ritardo ed è Gigi Piri 1966. Molto bene. Molto molto bene. È arrivato anche Pasquale Minuto. Lo sai Fede che ieri abbiamo sentito al telefono. Comunque è stato carino, ha detto passatevi tutti gli altri, quindi vedi. Bravo, Lunde. Repetto, allora, che 12-12-2012 Giannico ci dice già che a Cisternino c'è la neve, quindi è un fatto più unico che a Nero, perché in Puglia da quelle parti è difficile che nevichi. Quali altre notizie? Fatti oggi il giorno è importante oggi, non il 21 dicembre, capisci? Che comunque, capisci, essendo... Sì, si ribalta, però... Ha parlato anche la nostra Princess, ha detto che non passava lontano dalla Terra, chiaramente senza nessun pericolo per noi, però che intorno alle 7 e mezza del mattino era visibile. Io stamattina non mi sono svegliata, non so se dalla chat c'è qualcuno che si è alzato e col binocolo ha guardato l'asteroide passare su di noi. No, io non lo so. Ben tornati al bingo in famiglia, vado subito da Federica perché c'è stato il bingo nel break e tra poco parto una nuova estrazione. Sì, c'è stato il bingo di Pablo Neruta e in questo istante parto una nuova estrazione con un Jackpot Live da 537 euro, per cui se ricomincia vediamo chi, insomma, farà il vincitore di questa manche. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ma però io non la sento, Sire, perché la sento così? Sì, perché devi aprire il cuore al Natale, se non apri il cuore al Natale non la senti, è nell'area Jingle bell rock. Ma mi ci manca aprire il cuore al Natale, guarda, al massimo tendo l'orecchio. Va bene, allora io torno invece con la, cambiatemi la sigla, perché quando arriva Carlini, caro alla mia regia, deve partire.